Il sindaco ieri sera a Ring ha attaccato l'operato di alcuni agenti o dei video a ferme su Portovecchio annuncia il via al progetto Green Season. Progetto FWG apre alla sede triestina nella lista e appoggia l'investitura di Fedriga, candidato presidente, illeghista, sono ottimista. Salvatore Spitaleri è il nuovo segretario del Partito Democratico in Friuli Venezia Giulia, ruolo dal traghettatore fino al prossimo congresso, Francesco Russo, bisognava cambiare prima. PD incapace di capire il malessere delle persone, parola dell'ex sindaco Cosolini, promotore di un incontro sulle cause della debacle elettorale. Anche Gorizia avrà il suo cimitero per gli animali domestici, l'annuncio arriva direttamente dal sindaco Rodolfo Ziberna. Importante trasferta per l'Alma dopo una settimana segnata dalle polemiche sulla gestione tecnica dopo la sconfitta di Coppa Italia. Obbligatoria l'uscita Varsila a grandi motori per i tifosi vicentini, che seguiranno la gara di domani a Rocco, sicurezza rafforzata ai varchi dello stadio. Telespettatori di Telequattro, buonasera, ben ritrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. Il sindaco di Piazza ha nuovamente espresso ieri sera nel corso di Ringo il proprio forte disappunto per la multa ricevuta a mercoledì 7 marzo. Dure le parole nei confronti di agenti e vertici della polizia locale, che per quanto affermato dal primo cittadino preannunciano un nuovo scontro. Ma non sono mancate le buone notizie come l'avvio ormai prossimo del progetto Green Season. Vediamo un estratto. Se uno si permette di fare la multa al sindaco, il sindaco che è il capo della polizia municipale, è giusto che controlli perché sai perché hanno fatto la multa? Mi hanno fatto la multa perché io non ho trovato il posto perché questi non controllano tutti gli abusivi che si mettono dentro. Volevo ricordare ai cittadini che abbiamo in evidenza sul Corscotto anche un permesso per cui non è che il vigile non sapeva di chi era l'automobile. Allora loro hanno fatto una multa al sindaco perché era in difetto. Il sindaco l'ha pagata? Sì. E abbiamo chiuso questa... adesso ne apriamo un'altra però. Fra poco ti manderò dei bei video che magari vedrò i miei... L'ho scritto interessante. Interessante, interessante dirò i miei vigili che magari camminano per la città a vuoto. Pensa che la necessità sia quella... è chiaro che il sindacato può essere arrabbiato, ci debba essere un nuovo vertice alla guida degli agenti di polizia locale o... Ma adesso va via, al primo di giugno va via, il pesce punta sempre dalla testa. È pesante vuol dire che non... No, no, l'ho detto... ma scusa, quando io dico una cosa so quello che dico. Scusa, allora abbatte, abbatte, l'ho confermato io, adesso a giugno va in quescenza, c'è già il nuovo comandante, di fatti non do ordini adesso, aspetto il 2 giugno. C'è una novità che riguarda Portovecchio? Abbiamo questa bellissima notizia che hanno chiuso, anche se manca formalmente, il passaggio in consiglio comunale e il passaggio ovviamente fra i privati, eccetera, i 5 magazzini e Green Season, per cui diciamo che io credo che entro l'anno potremo vedere delle gru molto importanti nella zona del Portovecchio. Ora politica, progetto FWG appoggia Massimiliano Fedriga in attesa che all'interno della coalizione di centrodestra si decida chi sarà il candidato presidente per le regionali. Il concetto è stato espresso questa mattina da Sergio Bini durante l'inaugurazione della sede triestina della lista civica. Io sono ottimista oggi. E ottimista Massimiliano Fedriga lo si vede dal sorrisino durante l'intervista, lo ha affermato alla platea presente oggi in occasione dell'inaugurazione della sede triestina di progetto FWG. Che sia forse arrivato finalmente il momento di conoscere il nome del candidato presidente del centrodestra e magari quel nome è proprio Massimiliano Fedriga? In realtà ancora nessuna fumata bianca. Oggi il focus era sulla lista di Sergio Bini, con le idee dello schieramento e soprattutto le persone che ne faranno parte, le quali saranno a disposizione della cittadinanza nella nuova sede di Piazza della Borsa. Parto dicendo che ogni promessa va mantenuta e noi lo abbiamo fatto. avevamo detto che avremmo aperto una sede a Trieste e l'abbiamo aperta nella centralissima piazza della Borsa. Questa vuol diventare un ritrovo per tutti gli amici, tutti i simpatizzanti, per la gente del fare. Quindi in un periodo dove non esistono, ce n'è pochissimi luoghi di ritrovo per fare la buona politica, noi ci siamo messi a disposizione e abbiamo messo a disposizione la nostra struttura. E se qualcuno se lo fosse chiesto, non sarà Bini il nome che potrebbe mettere tutti d'accordo? Bini, come ha già detto più volte, in più occasioni, è un sostenitore di Massimiliano Fedriga. Quindi il concetto ribardito dal segretario regionale della Lega è disponibile a metterci la faccia e altresì al dialogo. Sono a disposizione della coalizione ma allo stesso modo disponibile a fare un ragionamento. Non voglio che sono in posizione personale, è certo però che i tempi ormai sono molto stretti e credo che nel ciclo di impegno bisogna chiudere. Sono stati dei nomi che a me piacciono, Vuga, Balloc, sono dei nomi che mi piacciono ma non sono gli unici ovviamente. Sono dei nomi che mi convincono, che hanno dimostrato grande capacità amministrativa e se Forza Italia proporono di loro discutiamone insomma. Infine le proposte concrete sul lavoro e imprese. Beh, due punti, inutile elencare centinaia di punti magari irrealizzabili. Io dico solo due cose, lavoro, 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 sicurezza, sicurezza, sicurezza. Prima cosa applicare la fiscalità di vantaggio. Noi competiamo con Regioni Dimitro perché hanno una pressione fiscale decisamente più bassa della nostra. Abbiamo la possibilità di agevolare le imprese che vogliono investire e creare lavoro in frequenza Giulia. Facciamolo. Passiamo al centro-sinistra. L'ex sindaco Cosolini ha promosso questa mattina nella sala del Cral un incontro pubblico per riflettere sulla sconfitta elettorale del centro-sinistra e fare il punto in vista del prossimo appuntamento con le regionali. C'è voglia di discutere sulle cause della nostra sconfitta. Hanno risposto in tanti, tra iscritti al PD, militanti e simpatizzanti del centro-sinistra, all'appello di Roberto Cosolini per ragionare sulla batossa elettorale del 4 marzo e rilanciare la sfida per le prossime regionali. Come si riparte a partire dalle prossime elezioni regionali, con umiltà, con determinazione, sapendo che dobbiamo cambiare noi da subito per gli errori che abbiamo commesso, ma sapendo anche che si apre una sfida nuova, più difficile oggi di quanto immaginavamo una settimana fa, ma una sfida per la quale andiamo in campo per vincere. Proprio alla sua sconfitta del 2016 contro Di Piazza, Cosolini fa risalire il primo segnale che avrebbe dovuto far pensare a un cambiamento epocale nell'elettorato, il cui malessere non ha trovato le giuste risposte dal centro-sinistra. Un malessere profondo, più profondo di quanto forse si intuiva, si è espresso e il centro-sinistra, il Partito Democratico non ha saputo fin in fondo dialogare con questo malessere. Ha dato risposte anche importanti, ma che evidentemente non sono sembrate agli elettori sufficienti in quel momento e forse non lo erano. Ora i vincitori del 4 marzo, in primis 5 Stelle e Lega, sono chiamati alla sfida del governo del paese, ma il PD e il centro-sinistra non devono stare a guardare. La gente rimane sfiduciata, arrabbiata e si rivolge verso chi sa, in qualche modo, dare uno sfogo alla sua rabbia. Oggi chi ha dato sfogo alla sua rabbia dovrebbe governare e probabilmente fare i conti con le compatibilità, ma non è che noi possiamo semplicemente stare ad aspettare che governi e che magari non mantenga le promesse. perché avremo probabilmente gli elettori italiani ancora più arrabbiati contro tutti. Dobbiamo essere capaci di dialogare e di offrire noi le nostre risposte a questi elettori. Salvatore Spitaleri, già presidente dell'Assemblea regionale del Partito Democratico, è stato eletto segretario regionale proprio del Partito Democratico nel corso dell'Assemblea di Partito, tenutasi ieri sera a Udine, un ruolo di garante e traghettatore fino al Congresso. Ne abbiamo parlato questa mattina nel corso di Sveglia Trieste con il senatore Francesco Russo. I democratici in Friuli Venezia Giulia, in caduta libera, si aggrappano alla roccia Spitaleri, così titola il piccolo perché il presidente del partito, che era visto insomma come una figura di garanzia all'interno del partito a livello regionale, è stato eletto all'unanimità segretario pro tempore in Friuli Venezia Giulia. Anche a livello regionale non si poteva che dare un segnale di aver capito, finalmente. Lei sa che io anche nei mesi, negli anni scorsi, ho chiesto più volte alla segretaria Grimm di dare un segnale quando abbiamo perso ad esempio tutte le principali città del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo sbagliato a non farlo prima, io sono stato anche bacchettato dentro il mio partito per averlo ricordato, ma perché volevo bene il mio partito e volevo che fosse chiaro ai cittadini che avevamo ascoltato la lezione che ci arrivava dalle urne, adesso dopo il 18 e passa per cento è evidente che non si poteva fare altro. Spitaleri era la soluzione migliore per gestire queste settimane, Sergio Bolzonello ha un altro profilo, ha altro da fare, è il presidente incaricato che abbiamo incaricato di vincere le elezioni al 29 di aprile, è una persona tra l'altro che viene dall'esperienza delle liste civiche, ha fatto il sindaco, non è uomo di partito, è giusto che lo faccia a Spitaleri in queste settimane, ma io spero che i segnali di cambiamento non si fermino qui perché abbiamo bisogno davvero di raccontare un altro partito democratico, di costruire un'alternativa anche a quello che siamo stati fino adesso. Passiamo alla cronaca adesso, il latitante romeno bloccato a Fernetti al suo rientro in Italia, era ricercato per condanna definitiva emessa dalla procura di Roma, sentiamo. Era latitante all'estero dal 2013, ma aveva deciso di rientrare in Italia nonostante fosse destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma. Un cittadino romeno di 41 anni, PD le sue iniziali, deve infatti scontare 4 mesi di reclusione per furto aggravato commesso nella capitale. Ma la sua intenzione è stata vanificata dagli agenti di una pattuglia del settore Polizia di Frontiera di Trieste unitamente al personale militare del Regimento Piemonte Cavalleria nell'ambito delle attività di retrovalico. Il latitante infatti si trovava a bordo di un autobus di linea romeno in arrivo dalla Slovenia fermato stanotte al valico di Fernetti per uno dei consueti controlli mirati alla prevenzione e repressione della criminalità trasfrontaliera. Gli agenti procedevano quindi a identificare tutti i passeggeri controllando i loro documenti e dagli accertamenti emergeva che il cittadino romeno era ricercato da ben 5 anni. L'uomo veniva quindi arrestato e rinchiuso nel carcere locale del Coroneo. Diamo notizia di un paio di incidenti che sono avvenuti quest'oggi. Dunque a Trieste alle 10.25 in via Costalunga all'altezza del civico 225 uno scooter è finito contro un'auto e il motociclista è caduto su parabrezza della macchina procurandosi lesioni agli arti inferiori. È stato trasportato in codice giallo dal 118 pronto soccorso di Cattinara. Secondo incidente pochi minuti dopo alle 10.30 in via Carpineto il numero 2 un automobilista accolto da un malore ha urtato una macchina in sosta. Prontamente è intervenuto il 118 che lo ha trasportato in codice giallo sempre all'ospedale di Cattinara. Anticipiamo poi un'iniziativa di Trieste Trasporti che partirà lunedì 12 marzo la diciottesima edizione dell'indagine demoscopica per la rilevazione di livelli di soddisfazione per i servizi di trasporto pubblico locale a Trieste. Promossa e commissionata dalla Trieste Trasporti l'indagine sarà condotta dalla società specializzata GAP di Trieste e Troisi ricerche di Bari. Saranno realizzate alcune migliaia di interviste sia telefoniche sia alle principali fermate degli autobus sull'intero territorio provinciale. L'attività che durerà due settimane circa prenderà in esame diversi aspetti relativi al servizio di Trieste Trasporti come l'affidabilità, la pulizia dei mezzi, l'accessibilità, l'innovazione e la cortesia del personale. A dicembre 2016 è iniziato l'iter per la creazione di una società pubblica tra la nostra regione e il Veneto cui affidare la concessione delle autostrade in sostituzione di Autovie Venete. E ora sono stati formalizzati i primi atti che dovranno essere sottoscritti dalle due amministrazioni. Vediamo. Si chiamerà Società Autostrade Alto Adriatico S.P.A. e sarà il nuovo soggetto che subentrerà nella gestione delle tratte autostradali attualmente di competenze di Autovie Venete con una concessione trentennale. Le quote della società per azioni in house, ovvero a capitale interamente pubblico, saranno per due terzi della regione Friuli Venezia Giulia e per un terzo della regione Veneto. È stato formalizzato infatti dalla giunta regionale il primo atto che contiene lo schema di atto costitutivo e di statuto e il testo dell'accordo che sarà sottoscritto tra le due amministrazioni per l'esercizio del controllo congiunto sulle nuove società attraverso uno specifico comitato di indirizzo. Verrà inoltre nominato un amministratore unico fino al perfezionamento della concessione con il Ministero dei Trasporti e non è da escludere un eventuale ingresso successivo di ANAS nella compagine societaria qualora le condizioni lo richiedessero. Grande compiacimento è stato espresso dalla Presidente della Regione e Commissario straordinario per l'emergenza A4, Deborah Seracchiani, che ha sottolineato come si tratti di un impegno rispettato che soddisfa la richiesta della Commissione Europea e dei Ministeri delle Infrastrutture, dei Trasporti e delle Economie e Finanze di affidare la rete autostradale a una nuova società che fosse interamente pubblica. Le politiche infrastrutturali, ha concluso Deborah Seracchiani, rappresentano uno dei settori di intervento a più alto impatto sui sistemi economici regionali e il mantenimento della concessione autostradale attraverso una società in house garantisce il soddisfacimento del servizio pubblico finalizzato allo sviluppo economico dei territori, assicurando al contempo una modalità di gestione efficiente e professionalmente adeguata alla complessità di questo settore. Bene, noi ora ci fermiamo per la pausa pubblicitaria, al rientro parleremo, apriremo la pagina dedicata a Gorizia e Lisuntino, parleremo di sport e apriremo anche gli archivi di Telequattro. Ci fermiamo e ci ritroviamo tra poco. Ben ritrovati con il nostro telegiornale, apriamo una pagina dedicata a Gorizia, anche Gorizia avrà il suo cimitero degli animali di affezione. Ad annunciarlo è stato direttamente il sindaco Rodolfo Ziberna. Vediamo. Gli animali d'affezione fanno parte a pieno titolo delle famiglie in cui vivono, per questo da più parti emerge l'esigenza di dare loro una degna sepoltura quando vengono a mancare. Gorizia avrà presso il suo cimitero degli animali, sarà realizzato in una porzione di terreno di proprietà comunale limitrofa al Camposanto Centrale di Via Trieste. Ad annunciarlo è stato il sindaco Rodolfo Ziberna. Dopo l'approvazione in consiglio comunale della variante urbanistica che permetterà di cambiare la destinazione d'uso dell'area, si procederà con i lavori. Il cimitero sarà riservato alla sepoltura di cani e gatti, ma è probabile che una porzione venga riservata anche agli animali di piccola taglia, come uccellini, pesci rossi, criceti e conigli. Oltre alle tombe vere e proprie, si sta pensando anche a un Camposanto virtuale collegato al portale istituzionale del comune, dove ci sarà una pagina dedicata in cui in pochi passaggi sarà possibile creare gratuitamente il cippo virtuale con foto e nome dell'animaletto defunto. L'iniziativa sarà a costo zero per i proprietari di animali e per le casse del comune. Oltre al cimitero, nell'ambito della programmazione dell'impianto di cremazione, c'è la volontà da parte dell'amministrazione comunale di ricavare una struttura analoga per animali d'affezione. Siamo adesso allo sport, importante esame in trasferta per l'Alma a Trieste dopo una settimana contrassegnata dalle polemiche sulla gestione tecnica dopo l'uscita immediata dalle finali di Coppa Italia. Quando si dice una partita spartiacque, la trasferta con l'ultima della classe per l'Alma, ancora prima pari punti con Bologna, non dovrebbe certo suscitare questa etichetta, ma il titolo deriva chiaramente dal momento no della squadra. I ragazzi di Dal Masson hanno l'onere di riscattare sei sconfitte consecutivi in trasferta e nel contempo raffreddare le polemiche recenti sulla gestione di coach Dal Masson. La buona notizia, ed è proprio il caso di dire finalmente, arriva dall'infermeria. Rosa è completo per la prima delle tre trasferte che vedranno impegnata Trieste fra Abruzzo e Marche. Dopo Roseto e le sue belle spiagge, sarà la volta di Iesi e Montegranaro. Dai ragazzi ci si attende una prova d'orgoglio di carattere huevos, prima che di qualità tecnica, per rasserenare l'ambiente. Di fronte, nonostante le sole quattro vittorie e campionato, c'è una formazione di notevole talento offensivo, tanto che gli Sharks viaggiano a 80 punti di media nelle gare casalinghe con un pubblico caldissimo e talvolta pure sopra le righe. I ragazzi di Di Paolo Antonio sono in cerca di punti chiave per la salvezza. Principale realizzatore degli squali è l'oriundo Matt Carlino, playguardia che ne mette quasi 19 a gara. In accoppiata con l'altro straniero, l'americano naturalizzato nigeriano Ogide, alla forte da quasi 14 punti di media. Nel gruppo italiano spicca al triestino Marco Contento, terzo realizzatore di squadra, oltre che Marulli e Casagrande, senza dimenticare l'ala Italo-Moldava, Ion Luposor. All'andata l'alma si impose per 82-63, ma quello di domani sarà un match profondamente diverso. E ora la Triestina, in particolare con tutte le modifiche alla viabilità che interesseranno sia i tifosi di casa che i tifosi vicentini, proprio in occasione della partita di domani pomeriggio alle 16.30 fra Triestina e Vicenza. Misure rafforzate per Triestina-Vicenza, partita che si giocherà domenica pomeriggio alle 16.30 allo Stadio Rocco. Ecco le principali informazioni per entrambe le tifoserie, cominciando da quelle per i supporters dell'Unione. A partire dalle ore 13 di domenica saranno chiuse al traffico veicolare via Valmaura, dalla sopraelevata fino all'angolo con via del Carpineto, e via Pallatucci, con accesso consentito unicamente ai residenti, prevesibizione di certificato di residenza. Per accedere allo Stadio Rocco, i tifosi labbardati avranno a disposizione esclusivamente via Flavia e via Miani, potendo parcheggiare le proprie autovetture nei parcheggi lungo via Flavia, accanto alle risiere di San Sabba. A differenza delle precedenti partite di campionato, i cancelli dello stadio opereranno 90 minuti prima del calcio d'inizio, quindi alle 15, mentre le biglietterie saranno operative dalle 14.30. Nonostante ciò, la Triestina consiglia caldamente ai propri tifosi di acquistare il biglietto in prevendita attraverso le molteplici possibilità, ovvero recandosi alla sede societaria nella giornata di domani con orario 9.11, oppure al centro coordinamento, ingresso da via Macelli domenica con orario 9.12. O ancora online sul sito www.daiticket.it stampando comodamente il biglietto a casa, infine anche chiamando il numero 040 98 96 246 prenotando il proprio biglietto e pagandolo in tutti i bar tabacchi ed iccole sisalpay abilitati. Per quanto riguarda invece il settore ospiti, i tifosi vicentini saranno obbligati a uscire in direzione Varsila Grandi Motori, dove sarà disponibile un'area presidiata, all'interno della quale potranno essere parcheggiati i veicoli durante la partita in tutta sicurezza. Prima dell'arrivo nei pressi del Rocco, le forze dell'ordine effettueranno un prefiltraggio preventivo e pullman organizzati, così come i mezzi privati, siano essi furgoncini o autovetture. In tal senso l'invito da parte del club Giuliano e tifosi ospiti è quello di raggiungere il Trieste con il dovuto anticipo rispetto al calcio d'inizio. I sostenitori vicentini, auto muniti, saranno portati a Rocco con navette messe a disposizione della Trieste Trasporti, lasciando le proprie autovetture nell'area Varsila Grandi Motori, che sarà sempre presidiata dalle forze dell'ordine. Diamo anche il risultato della pallanuoto Trieste, che ha giocato quest'oggi allo scandone. Trieste è stata battuta dalla Cannottieri Napoli per 11 a 7. Per i Giuliani assegno una tripletta di Gogov, una di Vico e in gol anche Petronio. Apriamo adesso gli archivi di Tele4. Verso la fine dell'estate del 2012 scoppia a Trieste il caso Sertubi. Spulciando i nostri archivi abbiamo ritrovato uno dei molti servizi che Tele4 ha dedicato a quel problema. La partecipazione al Consiglio Comunale di lunedì scorso, l'incontro con il prefetto di ieri, non hanno portato ad alcuna soluzione pratica e per questo oggi i dipendenti della Sertubi e di sindacati hanno manifestato sulle strade di Trieste in un corteo partito dalla sede dell'azienda, arrivato in Piazza Goldoni e poi snodatosi lungo le vie a Ghega, Roma ed infine in Piazza Unità. per un incontro con il sindaco e successivamente al Palazzo della Regione per un incontro con l'assessore Savino. Questo è l'effetto domino di quello che riguarda una crisi che è ormai consolidata per quello che riguarda le industrie nel territorio di Trieste. La non risposta del amministratore delegato della Sertubi che si è inserito un anno fa con delle prospettive totalmente diverse, oggi non sta ancora scoprendo le carte, però abbiamo i lavoratori da un anno in cassa integrazione. Quindi voi chiedete il reinserimento nel mondo del lavoro anche con un'alternativa? No, noi vogliamo intanto un tavolo per scoprire carte di questo fatidico Montesi, per capire quali sono i progetti per la Sertubi e non dimentichiamo che la Sertubi è collegata anche con la Servola. Dunque anche la Servola, nei prossimi momenti, tramite il debito che ormai non è più contenibile, potrebbe anche sforciare in una rivolta anche in quelle atolea. Le risposte al momento non ci sono, ma il Comune non si tira indietro ed appoggia l'incontro con la proprietà per un confronto chiaro. Parole del Sindaco Cosolini, sceso in piazza proprio questa mattina, che ha confermato il coinvolgimento della Regione, ma anche come già preannunciato, del Governo. Non si vuole cessare l'attività, dunque si andrà avanti finché non verranno trovate soluzioni o alternative, sia per la Sertubi che per la Ferriera. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi do appuntamento domani mattina con le trasmissioni di Telequattro, in particolare con Sveglia Trieste, a partire dalle 7 fino alle 11. Grazie a tutti, buona serata, arrivederci. Grazie a tutti, buona serata, arrivederci.